Buonasera a tutti, da qualcunoconquicorrere.org e libri liberi sit and breakfast, sono Matteo Biagi, ideatore e coordinatore del blog qualcunoconquicorrere.org, ideato, gestito e condotto da una redazione particolare perché è una redazione composta da 20-25 ragazzi, tutti tra i 12 e i 18 anni. Il blog qualcunoconquicorrere.org si occupa di recensire libri per ragazzi, per giovani adulti e di presentare le novità, di scrivere incipite dei romanzi, ma da oltre un anno abbiamo iniziato anche a collaborare con librerie e biblioteche per organizzare presentazioni, eventi e qui siamo molto contenti di collaborare con Libri Liberi e iniziamo oggi una serie di sette presentazioni non convenzionali a cui abbiamo dato il nome di Masterbook, ricette di lettura e quindi presenteremo sette libri scelti liberamente dai ragazzi e ogni volta due ragazzi presenteranno un libro. Grazie a tutti per aver guardato il video, grazie a tutti per aver guardato il video,